Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italiano Grande fratello VIP6, il piano di Alex Belli viene a galla. L'attore di 100 vetrine è stato sgamato Ecco che cosa ha studiato a tavolino. Tutti i dettagli.Alex Belli Il piano del Geffino è stato svelato, ecco che cosa ha organizzato Alex Belli all'insaputa di tutti Davvero assurdo. Tutto studiato a regola d'arte.Il piano di Alex Belli viene a galla Sebbene Alex Belli non sia più un concorrente del grande fratello VIP6, continua comunque a far parlare di sé E anche tanto. Poco prima di Natale, l'ex Geffino è stato espulso dal gioco per aver violato le misure di sicurezza Per oltre tre mesi ha tenuto alta l'attenzione su di sé per via del triangolo amoroso costruito con Soleil Sorge e la moglie, Delia Durano Secondo quanto dichiarato dalla modella venezuelana Manila Nazaro, l'ex attore di 100 vetrine avrebbe confessato alla compagna di averla tradita con la Sorge Il loro matrimonio è dunque in crisi.Delia e Manila.Intanto, mentre Delia si gode la sua esperienza nel bunker di Cinecittà, fuori dalla casa, l'ex Geffino continua a combinare guai L'attore è stato sgamato. Belli aveva organizzato fin dall'inizio un piano che ha dell'incredibile Davvero assurdo.Delia e Soleil nella trappola del Geffino.Non smette di regalare colpi di scena il fotografo ed ex attore di 100 vetrine La sua amante e sua moglie sono nel bunker di Cinecittà mentre lui attualmente, dopo una discussione con Alfonso Signorini avvenuta nel corso dell'ultima diretta, ha lasciato l'Italia ed è volato in Egitto Il fotografo però non la conta giusta e potrebbe essere in guai seri Una talpa ha rilasciato delle dichiarazioni importanti al settimanale nuovo affermando che il piano dell'ex Geffino è quello di continuare a destare attenzione puntando tutto su Soleil e Delia Alex Belli, Delia e Soleil.La fonte anonima dice che Belli avrebbe già organizzato tutto Ora Alex si trova in Egitto e non sarà dunque presente alla prossima puntata del Grande Fratello e in quelle successive In questo arco di tempo, la modella venezuelana e l'influencer italo-americana dovrebbero avvicinarsi e diventare amiche Si formeranno così le basi per mettere in piedi davvero un triangolo amoroso La talpa ha parlato poi di un desiderio confessato più volte ad Alex, quello di vivere in una grande casa e stare in un grande letto, insieme ad Elia e a Soleil Già si mormorava che Alex Geffino fosse favorevole alla coppia aperta e, a quanto pare, è davvero così Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video